Io prendo dieci licurizie e dieci bastoncini zuccherati. Che ne dici invece di una bella aranciata e di un pacchetto di caramelle, eh? Allora prendo una licurizia, un bastoncino zuccherato e l'aranciata. Ciao. 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 Solo un secondo. Senti, se ci dai due minuti ti do dieci licurizie e una scatola di bastoncini, va bene? Andata. Tieni. Ciao. Ciao. Senti, volevo dire... Per l'altra sera... Comincia tu. Beh, io... io volevo dirti... volevo dirti... che... mi dispiace non aver pensato alle conseguenze, a Dawson, al fatto di poter distruggere certi equilibri. Sì, era tutto vero. Quello che ho fatto è stato immensamente stupido e io volevo che tu sapessi che è stato un impulso puro e semplice e per nostra fortuna ha lasciato il mio corpo definitivamente. Posso giurarlo. Va tutto bene, pesi, davvero. Credo di aver proprio esagerato. Ho fatto diventare enorme una cosa da niente e... E siccome è una cosa da niente, perché agitarsi? Se non ha significato niente, dimentichiamolo. Giusto? Giusto. Giusto. In fondo si è trattato solo di un errore. Esatto. Bene, allora... Immagino che a questo punto siamo di nuovo amici. Per sempre. Grandioso. Beh, io... Devo proprio andare. Sai, quel ragazzino è una piccola peste. Casa sua è a due miglia da qui. È meglio che lo raggiunga. Chissà che cosa combina. Sì, tanto noi ci vediamo più tardi. Sì, a più tardi.